Non è Natale se si continua a vivere nell'indifferenza piuttosto che nella prossimità. Con questo spirito i detenuti reclusi del carcere di piazzale vittime nel dovere hanno realizzato un presepe per il reparto di pediatria dell'ospedale di Sulmona. L'opera della natività è completamente fatta a mano e in questi giorni non è passata inosservata. Personale e responsabile del reparto hanno apprezzato il nobile gesto che assume un significato ancora più profondo in vista del Natale. A nome mio di tutto il reparto, il personale del reparto di pediatria e della direzione sanitaria a nome del direttore dottor Tonio Ribbiase ringraziamo queste persone meravigliose che hanno voluto rendere il Natale in questo reparto a volte tanto bistrattato e martoriato se facciamo riferimento al discorso del punto nascita che ormai va avanti da tanto tempo, hanno voluto rendere il Natale ai bambini ricoverati un po' più sereno e allegro. Di questo li ringraziamo e gliene siamo veramente grati. E quando sottolineato il responsabile del reparto di pediatria Massimo 5, un segno che porta il clima natalizio anche in ospedale e unisce almeno indirettamente detenuti e bambini. Non un presepe qualsiasi ma una rappresentazione realizzata all'interno del carcere che ha comportato ore ed ore di lavoro. Il risultato non può che essere un grande dono.